dai cafferino e comincia non riusciamo a vincere nonostante abbiamo creato centomila occasioni mi tocca rifare un'altra tabella per lo scudetto noi ci siamo ancora ripeto inter indagata inter indagate quindi noi possiamo ancora vincere lo scudetto non ci preoccupiamo perché domani l'inter perde i napoletani che sono a meno 40 da noi possiamo ancora dire alla nostra no non vi preoccupate pioli ci porterà il trofeo prima di dare il suo addio no noi trionferemo a maccio e io sono serio ci credo dai ma no dai figlio mio figlio mio bimbo mio bimbo mia bimbo mia bimbo mia questo non è più spettacolo ma tu sei davvero pirra e non è più spettacolo ormai non è più spettacolo sei davvero pirra te milano rossa nera milano rossa nera rossa nera dai che dobbiamo festeggiare la vera festa ciao stelle